Domenico Restuccia Sì, Don Walter, buon pomeriggio Abbiamo parlato dei numeri 1 nello sport E l'altro giorno, navigando su internet, leggo questo articolo Whitney Houston e le altre di Ben Felici Numeri 1 del panorama artistico internazionale Che veramente nella loro arte, nella recitazione, nel canto, anche in Me Winehouse Erano assolutamente delle numere 1 Però questo, questo vederle in vetta, forse le ha esposte Le ha esposte eccessivamente anche alle fragilità molto forti della vita E mi ha colpito questa dichiarazione di Me Winehouse Un disastro, la mia esistenza è un disastro Tutti i sogni mi stanno crollando addosso e non vedo una via d'uscita Eppure, senza apocrisia, ammetto Ogni tanto, quando leggo di grandi personalità, di grandi numeri 1 Che dicono cose di questo tipo Penso, ma è possibile? Possibile che possa capitare a loro? E soprattutto... A Demi Winehouse è capitato poi Esatto E la spiritualità in tutto questo Dove era? In che forma si presentava? C'era? Non c'è mai stata? Poteva succedere? È successo Ma lei come si spiega? Numeri 1 che non riescono a fare della loro passione Un monito di vita e poi cadono? È difficile perché, ovviamente, sembra quasi Vedendo questi nomi così straordinari, no? Sono talenti mostruosi, direi Sembra quasi la maledizione del successo Ma mi viene in mente Forse la difficoltà che queste grandi personalità hanno Forse di perdere È il contatto con la realtà Con la vita di tutti i giorni Mi diceva una volta un artista Quello che mi ha salvato È stato avere sempre una famiglia Che mi ha tenuto con i piedi per terra E che sono stati la mia bussola In tutte le scelte che ho fatto Perché la vita di un artista È fatta di up and down Di tanti momenti alti Di tanti momenti difficili E avere poi una vita reale Vera Una vita che non è quella delle videoclip Però è difficile Perché sembra quasi che vogliamo giudicare La vita di queste persone Invece dobbiamo sempre approcciarci con grande rispetto Perché sono artisti con una estrema sensibilità Fragilità Un talento e un cuore enorme Che poi magari nei momenti di dolore Si sono scoraggiati Non ce l'hanno fatta Forse non avevano accanto persone In grado di aiutarli Persone amiche vere Amici veri Si pensa a volte anche alla solitudine Di questi numeri uno